Ciao Fede! Ciao strano e serino, chi sei? Sono Steph! Non sei Steph, Steph non è così peloso, dai non esageriamo Che che ha sempre la barba lunga ma non è così peloso Sono io, invece di rosarmi! Ma sei diventato così? Sono carino! E sei caduto in un mondo strano e sei qui da solo? Esatto, guarda, sono anche dei pugni E salto E ragazzi, come va? Io sono Fede Niki E sono Steph, perché se ti chiamavo Wrong World? È un po' strano il nome di questo gioco Ma ripigliati dai Prima di fare l'intero avevamo 5 minuti che dicevamo Wrong World Wrong World, vabbè, ce l'abbiamo fatta Comunque siamo qui con questo nuovissimo survival In cui vestiremo i panni di questo adorabile serino Che non abbiamo ben capito cosa sia Non lo so E dovremmo cercare di sopravvivere in questo vasto ed enorme mondo Esattamente, quindi è un survival in un mondo totalmente strano E con un esserino altrettanto strano È già fatto notte È già notte Oh, che bello questo cielo Che bello Ah, ok, ok, ok Quindi il nostro obiettivo è sopravvivere Però siamo in un mondo molto particolare Ho visto bestie stranissime Ho visto piante strane Guarda, 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 guarda Cosa sei tu? Buongiorno Salve! Come sta? Ma è tipo una pietra che cammina Lo amo, è il mio migliore amico Sì, assolutamente Me lo tatuerò qui sul braccio Perché siamo fatti l'uno per l'altro Anch'io prendo sempre a testate le cose Ok Ci siamo distrutti una bella roccia Uh, materiale raro Overo del ferro Perfetto Prendiamoci tutto E con, se mi ricordo bene, E Possiamo vedere il nostro inventario Abbiamo sette di pietra E uno di iron Ovviamente ci serve del cibo Dato che stiamo iniziando a morire di fame Abbiamo anche la vita E abbiamo anche il crafting Quindi se andiamo qua su Q Possiamo craftare Possiamo fare le patatine fritte, Fere? Allora, due potatoide e un campfire Chi sono i potatoide in quest'isola? Stef, Stef, attento Ma che cos'è? Stef, attento Aspetta Ti sta mangiando Scappa Ma che? È cattivissimo Guarda la faccia che fa soprattutto Aspetta È pazzo L'ho mancato L'hai mancato tanto Un patatoide? Un po' la forma da patatine fritte? No, non credo, Fere Però ormai sono arrabbiatissimo Guardami Ok, vai Ti spacco la faccia Ma quanto è forte, Fere? Ok Ok, che ci ho dato? Un seme Un seme E questo che cos'è invece? E poi un sand Sabbia Secondo me poi compaiono soprattutto di notte Quindi adesso che diventa giorno Torniamo ad essere tranquilli Ho visto anche qualcosina crescere Tipo questo fiore Eh, esatto Questo è un altro pietrone però, eh Buongiorno, ci sta attaccando Allora, prego Dai, ma pensavo Vosè tranquillo Sono quasi tutti ostili in questo mondo, eh Quasi tutti ostili È lui che si grata La lingua sembra una sciarpa Guardala bene È troppo carino Ma questo è un campfire? Sì, c'è già E lo possiamo prendere Allora, lo possiamo accendere premendo il tasto destro Se abbiamo della legna Che non abbiamo Quindi cerchiamo di tornare qua Quando fa notte Perché avere un campfire già pronto Secondo me fa comodo Proviamo di suggerire qualche albero, va Vai, vai Occhi e serpenti Oh Fere Che brutto che è Come sta camminando? Non lo so Però è proprio brutto Ai piedi Ma non può esistere un serpente con i piedi Scusami, Steph Guarda, i piedi Buongiorno Sta già venendo? Ti sta già picchiando Mi scusi, non riesco a prenderla seriamente Possiamo parlare Ma che fai? Ti salta pure Ma la capota Comunque siamo cattivissimi Siamo cattivissimi Comunque ci ha dato della pelle E una bella bistecca di carne Che questa va sicuramente cucinata Guarda Vedi? Questa qua Possiamo farci una bella bistecca Però Andiamo a prendere la legna Andiamo a prendere la legna Esatto Anche perché sono già le 5 di sera Quindi sta per fare di nuovo notte Ok, mi sembra giusto Tornare a dare le testate Perché è la cosa più normale di questo mondo Scusa, Steph Non hai ancora un'ascia È normale che gli devi dare una testata I pugni O i colpi di gamba No Fere, cos'è questo? È un frutto? Un omel Un flappol Cos'è un flappol, Fere? È tipo un uccellino Però aveva i piedi Aveva le zampe Sicura Se ci hai fatto caso No, abbiamo l'inventario pieno Eh, sì Aspetta Dice che è un frutto alieno Ok E per qualche strano motivo Alle ali Alle ali E anche i piedi Io aggiungerei perché ha delle zampettine Vabbè Io butterei la sabbia Che secondo me per ora non ci serve troppo Perché serve a fare il vetro Non ci serve il vetro in questo momento E ci Ops, mi sono abbassato per sbaglio E ci prendiamo la legna Sì, assolutamente sì Fere, possiamo nuotare? No, Steph Provo Possiamo nuotare Ok Hai notato quella bestia Alla nostra sinistra stramba? Sì, ma hai notato Hai notato un'altra cosa? Che cosa? Abbiamo la cannuccia per respirare Ah, vedi? Abbiamo la maschera con il sbagaglio Fere, ci sta in secondo qualcosa? Oddio, che è? Ma che se è una patata? Per mangiare le patatine fritte? Forse sta proprio solo in acqua? Mi scusi? No Mi scusi? È scomparso? Che cos'era? Mi ha fatto una paura incredibile Secondo me era una patata gigante Può essere, può essere E siccome abbiamo fame Poteva essere utile Allora, è tornato giorno Vedi che i mostri sono scomparsi davanti ai nostri occhi Quindi di giorno ci sono soltanto certe cose Attento che c'è un Gaia Man Allora Vediamo se possiamo craftarci noi stessi un camfire Ok Per risolvere la situazione decisamente drastica Sì che possiamo Eh, però ci vogliono tanti materiali Però costa un sacco di materiali Tant'è che non ce ne abbiamo Ci mancano uno di pietra No, uno di legna E la pietra invece ce l'abbiamo Craftiamo il nostro camfire? Oh, guarda Guarda che fai Che carini che siamo Ed è pronto Ok Seleziona una location Qua Dici, proprio attaccati all'acqua? Sì, mi sembra carino È pianura Ci sta C'è un'attività una Gaia per forza Perché guarda Eh sì, assolutamente Allora E lì da qualche parte Mamma mia i servattaggi ci fanno scattare un sacco E lì da qualche parte che ci vuole attaccare Facciamo così Facciamo così Andiamo qua E clicchiamo questo Ci mettiamo a cucinare davanti al fuocherello Eh sì Anche perché stiamo proprio cuore di fame Eh vabbè ma una bisteccona questa L'ho mangiata? Quanto ci sfama? No, ancora non l'ho mangiata Facciamo così Eh Pochino Speriamo molto meglio Cioè, per la grandezza della bistecca mi aspettavo un po' così Ti aspetti? Sì, esatto, esatto, esatto Allora ci tocca stendere sto tizio Perché qua c'è un funghetto E il funghetto Dato che ne abbiamo due Con tre possiamo prepararci un bel piatto Quindi possiamo mangiare un altro po' E magari sommarci un pochettino Mi aspettavo decisamente meglio da quella bistecca Però va bene così Dai, troveremo qualcosa di meglio Gaia man comunque è scarsino Guardalo, guardalo Non può nulla contro di me Sono troppo forte per lui Ma sta navigando? Sì, sta navigando Oh, bello Però forse non è una buona cosa Non lo so Non lo so Noi stiamo vicini al nostro fuocherello Così anche se ci fa freddo Stiamo tranquilli Ok, creiamoci la nostra bellissima zuppetta di funghi Vediamo quanto ci somma a questo Dato che comunque chiede tre funghi e non uno Bellina Ok Tacchete, tacchete Molto meglio Molto meglio Qualcosa Non lo so Questo serve Needs a place to work Vedi il workbench Serve a lavorare Magari sblocca qualcos'altro Tra cui magari appunto la chest Può essere Può essere Abbiamo ovviamente i nostri dieci Quindi possiamo creare una staffa Adesso lo voglio vedere andare in giro con la staffa Adesso lo voglio vedere assolutamente Ok Prendila Come lo equipaggiamo? Facendo tasto destro? Vai provala subito Ok che la volevo provare però Prova la sua Porca miseria Aia Aia Ok Non lancia magie ma lo usa come se fosse un bastone Più che una staffa Però fa un sacco di danno L'abbiamo ucciso molto molto più velocemente L'ho steso subito ed è pure volato via un oggetto strano Non lo so Comunque si sembra abbastanza forte Guarda eh Pronta? Pum Pum Prontissima E' scomparso Se ne è dato Perché è diventato a giorno Eh gli ho fatto troppa paura E' vero? Vero sono troppo minaccioso Fere ma quella lì in fondo è una costruzione? No non l'ha più pallida O è una roccia strana? La vedi? Sì però Guarda le rocce a sinistra e a destra Ha un colore diverso Questa è una roccia Qualcosa di molto strana Esatto Aspetta che controllo che non compaia Mr. Potato Mr. Potato Dicevo a me sembra una costruzione Speriamo bene che magari troviamo qualcosa di bello Lo spero Esatto è quello che stavo sperando Perché potrebbe esserci almeno Una piccola chance Qua ci sono anche i cactus Che carini Occhio che magari ti fuggi Allora Ci siamo allontanati dalla nostra fantastica zona Per una roccia Ok No però aspetta Aspetta Stef Ha un'entrata Ma che è un'entrata? No Stef davvero Non lo vedi che è una sorta di sportello? Guarda bene È un posto strano È una sorta di bunker questo Non è una roccia È vero È inutile che mi prendi in giro È un bunker È vero Non ho la più po' l'idea di come ci si possa entrare Ma è un luogo strano Molto strano È un bunker per davvero Sì 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 Vedi questo è uno sportello chiaramente Cioè non è qualcosa di diverso Vabbè Siamo bene Sono carino Tantissimo Sta più re piovendo Non solo è notte ma sta pure piovendo Allora siamo riusciti a prendere i nostri 30 di legna Quindi teoricamente possiamo creare il workbench Perfetto La difficoltà maggiore adesso di trovare il nostro camper È lì davanti Ma credo che sia quello lì Giusto? È lì davanti Sì Anche me sembra quello Quindi vai e vediamo Perché abbiamo una fame incredibile Dovrei avere almeno tre funghetti Sì quindi ci possiamo fare una bella zuppetta di funghi Che ci dovrebbe riempire abbastanza Il nostro stomacuccio Vediamo un pochettino Allora Buongiorno focherello Riaccenditi Vediamo se riusciamo a farci una bella zuppa Ci sta facendo proprio l'avviso Ehi ho fame Ehi muovetemi Muovetemi Tranquillo Aspetta Steph Perché c'è un terremoto? Oddio Steph Ma cos'è successo? Ma perché? Prenditi la staffa subito Se ne sono andati? No spariscono sotto terra Ma ci hanno mangiato la zuppa L'hai presa No credo di essere riuscita a prenderla Perché ho avuto paura che fosse una salta alla zuppa Non a noi E anche io Che io ho presato subito al cibo Quindi l'ho chiapata al volo Sembra giusto Impari sempre da me Meno male Meno male che a questo lo impari Oh mamma mia che ansia Comunque facciamoci il nostro workbench Dai Vai vai Finalmente così vediamo Così arrivano gli assalti rapidi Da sotto terra Aiuto Stavamo mangiando tranquilli Manco la zuppetta di funghi Ci fanno correre in santa pace Ok Allora io lo metterei vicino al campfire così? Sì Vero con una bella vista sulla ghetta E infatti Nuovi tipi di crafting sono stati sbloccati Ok Vediamo cosa c'è Oh la chest Il cooking pot La chest Sì Avevamo ragione Icami table Electronics workbench upgrade Quanta roba Il cannone adesso lo possiamo fare Allora il cannone c'era anche prima faremo Non ti volevo rovinare tutto Mi spiace Mi spiace Sì 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 Ogni volta sei distrata Allora Con lo smelter Noi creiamo da ore a lingotto E quindi una cosa in più Con Envil di sicuro possiamo craftare altre cose Con cooking pot possiamo cucinare altri cibi Con l'alchemy table potremo fare sicuramente delle pozioni Con gli electronics workbench upgrade potremo craftare le cose elettroniche Quindi pensate a quanta roba da craftare c'è Possiamo metterci anche una maschera per difenderci Mentre qua abbiamo sbloccato tutte le cose in stone Più Allora Questo per innaffiare le piante Vuol dire che possiamo farci anche l'orticello E oltretutto Ho visto che c'è una mini casa C'è il recinto Quindi penso che ci potremo fare una vera e propria base a questo punto È troppo bello Troppo bello Innamorati totalmente di questo gioco Poricino per questo gioco Perché è troppo bello Perché se dice Diceteci un like E sarà la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao